Ciao a tutti, come state, come stai tu in particolare, tu in particolare? E oggi sono qui per fare, aiuto, questo video per aiutarti proprio a rilassarti, percepisco che tu stia passando un periodo con tanto stress e vorrei darti una mano appunto, perciò oggi prenderò un po' cura di te, va bene? Ricordati di indossare un paio di cuffie o auricolari e di stenderti un po' sul tuo letto, magari anche provando a chiudere gli occhi, per te va bene? Perfetto, perfetto. Io ho preparato qua qualche trigger da mostrarvi, quindi non ci resta che cominciare, farò veramente tanti visual trigger, anche tanto tongue clicking, perciò accogli questa esperienza come un'opportunità per rilassarti proprio. Allora, faccio prima un' un po' di tapping. Ascolta il suono del lino. 64, 0.32, 0.33, 0.32, 0.33, 0.33, 0.atemi. . Ancora un po', non voglio che i trigger siano troppo, troppo lunghi perché potrebbero stufarti. Tu devi ricordare di restare concentrato oppure concentrata. Su di me, cercare di assaporare l'essenza, tutto ciò che ti può far rilassare. Ok, come ti senti? Come ti senti? Mi raccomando, non perdere mai la concentrazione. Ti voglio concentrata appunto su ciò che faccio, va bene? Perciò adesso un altro trigger, veloce veloce, che però volevo fare con questa crema. Perché adoro il suono del tappo. Questo proprio veloce veloce, solo per farvelo vedere, ecco, concentrati sul suono. Ok. Questo molto di meno perché non è un suono veramente, veramente, veramente bello. È rilassante ma fino a un certo punto, quindi non voglio stufarti, non voglio stufarti. Adesso invece che ne dici di un po' di visual trigger, un po' di carezze al viso. Carezze al viso, carezze al viso, carezze al viso, carezze. C'è qualcosa di più, anche nel mio intero che si fa sulla eye. C'è una visione con il tuo bisogno? Si è un po' di visualizzazione, anche per la visione, mangiarei ciò che per provare a scienza. C'è anche questo punto. C'è un po' di visualizzazione. Noi, per la visione sono più rischiavese in un po' di visualizzazione. C'è un po' di visualizzazione. C'è chi è un po' di visualizzazione. e io mi storia sono l'acqua A voi piacciono i hands sounds? Perché non a tutti piacciono, secondo me. Ok. Posso collegarmi al trigger che stavo facendo prima, aggiungendo questo bellissimo pennello. Per fare quindi... Puh, puh, puh. Puh, puh, puh. Puh, 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 puh. Puh, 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 puh. Puh, 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 puh. Puh, puh, puh. Puh, 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 puh. Vediamo la via. Come ti senti? Un po' più rilassato? Un po' più rilassata di prima? Mi raccomando, concentrati su di me, su ciò che sto facendo, sui suoni. Adesso cosa farò? Prendo questa specie di tipo pasta modellabile e farò un po' di suoni con questa. Allora sarà un piccolo problema tirarla fuori, ma ce la facciamo. Ok, dai. Ok, ci sono. Per questo video l'ho presa apposta gialla. Concentrati adesso sul suono che fa questa pasta qui. Per questo video l'ho presa. Scusate se mi vedete troppo serio a volte. Sto solo cercando di fare il mio video. Oplà. Momenti, mi cadeva. Facciamo. Facciamo con questa un po' di... Puff, 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 puff. Ok, la posso dare. Ok, la posso dare. Come ti senti? Come ti senti? Come ti senti? Ascolta il mio drum clicking. Adesso come ultima cosa. Poi magari dopo farò altro, non lo so. Ho voluto prendere questi due bicchieri di plastica. Per fare questo suono che io adoro. Per fare questo suono che io adoro. Oh, fine. Pasta. Oh, vuoi potere. Presa, 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 via. Come ti senti? Io spero che tu adesso ti senta meglio rispetto a qualche te, rispetto a prima. Ho cercato di farvi il mio meglio per rilassarti. Adesso chiudi gli occhi perché è giunto il momento per addormentarti. Per questo io adesso sono qua per darti la buonanotte, dicendo cucù, cucù. Ora tocca a te, tocca, tocca, tocca solo a te. Iscriviti al canale se sei nuovo per entrare a far parte della OOPS community. E se sei un maschietto diventare un OOPSina, mentre se sei una mia uccia diventare un OOPSina. Poi, mi raccomando, lascia un bel like e commenta qua sotto con tutto quello che ti passa per la testa. Ricordatevi che il mio canale è un posto sicuro, perciò potete scrivere tutto ciò che volete di positivo, ovviamente. Non scrivete su coldine altre cose brutte. Il video di oggi finisce qua, ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, perché non lo so, ti senti che non ti sei ancora rilassato o rilassata a pieno, io la ti lascio qua, il mio video precedente, qua con la mia playlist e qua il tasto per andare sul mio canale e vedere così qualsiasi video tu vorrai. Perciò è il momento di darti un bel bacio e salutarci. Ok, quindi buonanotte, 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 buonanotte.